Io non vedo le cose nel modo in cui le vede lui. Non capisco come un mondo che crea delle cose tanto meravigliose possa essere cattivo. Guardate un po', quello che ho è una raccolta preziosa, lo so. Vi sembrerà che io sia una che ho tutto ormai. Che tesoro, che ricchizze, chi mai al mondo ne ha quanto me. Se guardi intorno dirai, oh, che meraviglie. Ho le cose più strane e curiose, non ho nulla da desiderare. Vuoi un come si chiama? Io ne ho venti. Ma lassù, cosa mai ci sarò? Imparerei tutto, già lo so. Vorrei provare anche a ballare e camminare su quei... Come si chiamano? Ah, qui è? Con le mie pinne non si può far Vorrei le gambe per saltare ed andare a spasso per la... Ma come si dice? Strada, vedrai anch'io la gente che al sole sempre sa come vorrai essere in via. Senza perché mi liberai. Come vorrei poter uscire fuori dalla tua... Che pagherai per stare un po' sdraiata al sole. E scommetto che sulla terra le figlie non le sgridano mai. Nella vita fanno in fretta ad impararsi. Mi sanno incantare e conoscono ogni risposta a ciò che chiedi. Cosa è un cuoco e sai perché, come si dice, brucia. Ma un giorno anch'io, semmai potrò, il sole rola viva lassù... Fuori dal mar... Come vorrei vivere là... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti.